Lei ha sollecitato il Ministro Locatelli sul tema delle politiche per la disabilità, una tematica che lei sta particolarmente a cuore. Sì, ieri ricorreva esattamente la celebrazione della giornata internazionale della sindrome di Down e quindi abbiamo pensato di sollecitare il Ministro per sapere che cosa intende fare e che cosa il Governo e come il Governo intende procedere. Si sta facendo passi in avanti perché con il Governo Meloni il Ministro è stato molto chiaro e si inizierà un approccio nuovo, un approccio che va oltre quell'aspetto caritatevole che fino ad oggi si è pensato essere necessario per affrontare la disabilità. Oggi ci sarà un cambiamento, un cambiamento epocale ma soprattutto un cambiamento che ruota sul tema della cultura, che vuole mettere la persona con disabilità al centro e investire sulla persona con disabilità. Questo può essere un costo oggi ma è sicuramente un risparmio in futuro. Con il Governo Meloni quindi ci sarà un approccio molto diverso rispetto al passato. Si va oltre quello che è l'aspetto caritatevole ma si andrà a puntare sulla persona con disabilità come persona su cui investire, persona al centro e protagonista e puntando soprattutto a quella che è la vita indipendente per aiutare così non solo la persona ma anche la famiglia e i caregiver e tutto il mondo che ruota attorno alle persone con disabilità e quindi andare a affrontare tutta una serie di politiche sia per il durante noi ma soprattutto per il dopo di noi. Quando la persona con disabilità si troverà sola senza i propri caregiver, senza i propri cari che lo potranno accudire. Con la persona al centro e investendo sulla persona e quindi costruire un modello sociale basato su una totale inclusione sotto ogni punto di vista sociale, culturale, dello sport è giunto il momento che i genitori insegnano i propri figli, che gli insegnanti insegnino ai propri ragazzi e che le istituzioni insegnino ai cittadini che nella diversità c'è bellezza, che nella diversità c'è forza e che dobbiamo guardare senza pregiudizio. Grazie.